Un'ordinanza lampo non c'è che dire quella che riguardava la ZTLA Subbiano in via Aretina durata praticamente meno di 24 ore. Dopo le polemiche di consiglieri di minoranza e di cittadini raccolte anche in un nostro servizio arriva il dietro fronte del sindaco Antonio De Bari. Scelgo la strada dell'ascolto scrive in un breve comunicato stampa per meglio valutare le strategie da intraprendere per salvaguardare una zona importante come via Aretina per la vita del paese. L'ordinanza che era già temporale del tutto sperimentale come del resto si leggeva anche nello stesso volantino aveva l'intento di salvaguardare la zona compresa tra la scuola e l'area ricreativa specialmente adesso che si avvicina l'estate scrive ancora il sindaco soprattutto per le tante lamentele dei cittadini che qui vivono e che in questi due anni hanno manifestato più volte la mancanza di sicurezza. Sicuramente una soluzione per questa parte di Subbiano va trovata intanto domani dice ancora De Bari convocherò la commissione al traffico la quale entro 30 giorni dovrà trovare un rimedio alle diverse problematiche di via Aretina. Nel frattempo accolgo le varie osservazioni della cittadinanza sospendendo l'ordinanza già dal giorno di oggi. Il sindaco aggiunge in chiusura del suo comunicato stampa un pizzico di amarezza che riguarda soprattutto le reazioni via web di alcuni suoi concittadini. Il web e i social afferma devono essere una corretta opportunità per partecipare attivamente alla soluzione di un problema e non uno strumento per offendere le persone.